le maghe del cuore lettura spazio temporale molte volte siamo attanagliati da dubbi vorremmo anche solo una piccola risposta rispetto a una cosa che ci sta tanto a cuore le maghe del cuore possono effettivamente aiutarci in questo cioè sono delle consigliere fondamentalmente ma ci aiutano anche a comprendere se stiamo prendendo la strada giusta o meno quindi la lettura 1 la lettura spazio temporale chiaramente non è quella che ci darà la più ampia risposta però intanto magari una piccola risposta che ci rincuora un attimo piuttosto che ci direziona sul capire se effettivamente stiamo andando sulla strada giusta oppure no è effettivamente importante a volte ricevere anche solo questo piccolo questa pacca sulla spalla perché ci sono dei momenti in cui stanno magari passando sta passando del tempo e siamo lì con i pensieri che ruotano e a volte ricevere anche solo un piccolo consiglio può essere utile infatti il senso di questa lettura è proprio quello del consiglio è proprio quello di comprendere velocemente che tipo di energie si stanno muovendo quindi a favore contro la risultante e soprattutto ricevere un piccolo consiglio una visione una comprensione leggera se vogliamo ma intanto è già qualcosa e quindi vi aspetto sul sito www.lemagedelcuore.com lettura 1